Io so che dovrebbe esserci in collegamento d'Agostino, giusto? Sto qua, vi sta puntando tutto caruccio, però io avrei fatto ballare giurato. Cioè, sono la sambetta, metti dentro giurato. Cioè, facevi le ballare camicia, luchetto, poi vedi un po' più debbrio. Io pensavo che tu ballasse. Bello, grazie, mi chiami in causa, so contento, mi sento onorato, grazie davvero. Sei un grande, grazie, grazie davvero. Dai, è un grande, è un grande. Dai Luca, guarda un po', dai, facci qualcosa. Molto impegnato, la storia, dai. E dai, non ce l'abbiamo fatta. Cioè, io metterai in mente. Peccato però. Ma siete tre, fate il quartetto tetra. Fao, venire lì, fai due domande pure lui, te ne avviva tutta, la botta di colore. C'è la tovagliata da picnic al posto della camicia. Vabbè, ma sta camicia per piacere, ma va, difendimi. Ma l'avessi mai fatto, ma sta scherzando, sta scherzando, è la cosa migliore. Ma lo so, ti va bene, ma per carità. Allora, Vicky, famo una botta di Cielomanca, un classicone, come giocata a bottiglia, no? Sì, facciamo una botta di Cielomanca, però so che Massimo forse prima voleva dare alcuni risultati. Ma lasciatelo in pace, quando lo faremo a parlare, oggi è molto male. Stiamo arrivando ai finali, tra poco ci dobbiamo collegare perché sono veramente emozionanti. Allora ci guidi tu, io vado avanti. Vai, tra poco ti chiamo io. Posso, Roberto? Vai, vai, so curioso, davvero senti pure... Ma sapevi che si è arrabbiato pure Arisa con Savino perché nello spot dice ma hai copiato il look che sei uguale a me, la gente è prestata a me ferma, vuoi sapere da riffe. Hai visto lo spot di Savino? No. Ma come no? Ma che c'hai oggi? Ti sei impastata alla colonna cerebrale? Cioè Savino fanno spot famosissima, la compagnia strafamosissima, assomiglia a Arisa. Eppure Arisa si è arrabbiata, vero? Ma dico io perché non hanno preso Arisa, visto che... Ma fatti, questa pure canta, c'ha due bocce così... Aspetta, c'è tempo. Ma che ti vai a prendersi a vino, che Nicola è pure un amico. Però c'hai Arisa, sfrutta, sai la riffa come va? Questa è una bella idea, non si sa mai, non si sa mai. Vai, vai, cominciamo, ce lo manca se è tutto un fremito. Ce lo manca. Ce lo... Allora, cominciamo da Arisa. Ho un fisico bestiale, ce lo manca? Manca ancora. No, non sono d'accordo. Però delle tette molto grandi. Molto bene. Ti pare poco. Cioè, quelle sono le basi, eh? C'è sempre quello che penso. Sono le basi quelle. Cielo, cielo. 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 È bestiale, dai. È bestiale. Cielo, fisico. Confermi. Confermi. Anche io confermo. Scusami, cosa dicevi Roberto? No, tutto... Cioè, mezza... Puppezza è mezza bellezza, Arisa. Cioè, queste sono le basi del mestiere, sta andandola grandissima. Ok. Il successo logora. Ce lo manca. Ce lo, un po', a volte. Ah sì? Sì. Capirai, ho fatto due canzoni. Sono un po' solo come un cane come te. Ma, guarda. Puoi rispondere? Devo rispondere. Eh, se avessi tanti soldi, quanta popolarità? O sarei miliardaria. Milionaria. Ma stai fantastico. Ci sei uscita la grande. Non pensavo, guarda. Ti giuro, non pensavo. Ci sei uscita benissimo. Complimenti. Anche te, grazie. Stai fantastico. È una freghi questa. È una parà. Ma è brava. È fantastica. Stiamo facendo appunto il cielo manca. Al quarto, gin tonic, limono o anche un platano? Ce lo manca. Anche al secondo. Io resisto un po' di più a like. Un po' di più. Preghiere prima di andare a letto? Ce l'ho a volte, sì. A volte, a volte ce l'ho. Figuraccia a letto? No, non ce l'ho. Manca. Manca. Alla grande. No, sì, sì, ce l'ho. Ce l'ho? Poca. Non voglio indagare. Mi sono fidata da persona sbagliata. Ce l'ho. Ce l'ho. Posso fare meno della TV? Manca. Manca. Ok, la bellezza per me è stata un problema? Manca. Manca. A Risveglia non mi ricordo il nome di sta qua nel mio letto. O di sto qua? Manca, manca. Manca. Ma a volte avrei voluto. Manca, manca. Sono competitivo, competitiva. Ce l'ho, però in maniera molto pulita. Tra l'altro posso dire una cosa? Rispetto alla domanda di prima, che per, tipo, non so mai. Io, tipo, se mi faccio una sveltina ci rimango un anno. Capito? E questo è un grande guaio. No, nel senso che non riesco, non riesco. Cioè, minimo ci rimango un anno. Quindi. Sei stata molto chiara. Proviamo al presente. Presente. Cielo. Cielo. Ecco, io mi sono persa nel frattempo. Difettuccio fisico. Cielo. Ma cielo. Allora dove? Appunto. Sì, boh, devono dire agli altri. Perché qua dicono... Anche Luca è perplesso, va bene. Il naso. Io ho il naso. Che non è proprio francese, no? Eh, grazie. No, ma si riferivano... Non lo so. Va bene, andiamo avanti. Siti porno. Devi no. Manca. Cielo. Cielo. Vabbè, ho rubato il fidanzato, o la fidanzata a un amico, un'amica. Manca. Dove rispondere? Secondo me manca, però diciamocelo. Ma ma, ma hai fatto bene, va. Siete felici, quindi. Se non lo faccio tutti i giorni, vado fuori di testa. Ho paura di Arisa. Vai, rispondi perché... Manca, manca. Manca. Però non tanto tempo senza, insomma. Manca, manca... Beh, Vicky. Ma io direi, manca, però siamo molto vicini a tutti i giorni. Addirittura, ragazzi. Se ci accortivi... Eh, no, certo. Aspetta, eh. Sono un rosicone. Una rosicona. Manca. Manca? No, manca, manca. Hotel a ore? Manca. No, cielo. Quante ore? Voglio sapere le ore. No, manca, manca. Ma voi non mi dovete fare queste ragazze, perché io sono sincera. Ok, una sola. Ammirarsi i nudi davanti allo specchio. Manca. Cielo. Va beh, dai, l'ultima. Leggira, ma non ripeterla ad alta voce. Cielo manca, non ripetetelo. Cielo, 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 cielo. Cielo, molto. Cielo. Va beh.